A donare dalla loro separazione si è tornato a parlare di Larry Blasi e Totti. A quanto pare, Air Pupone è vendicativo. Infatti, porterà in giudizio quelle che sono le prove schiaccianti che Larry Blasi è stata lei a tradirlo per prima. Infatti, lui non vuole smentire di essersi innamorato di un'altra donna, ovvero di Noemi, però non vuole neanche passare per essere stato il primo traditore. E voi cosa ne pensate? In fondo, entrambi con il loro nuovo partner stanno meglio, sono più felici, fateci sapere la vostra. Invece, se volete essere sempre collegati con tutto il gossip del momento, collegate su www.donnaglamour.it Vi aspettiamo!